Oggi proviamo a simulare il circuito del buffer che abbiamo visto realizzato con l'amplificatore operazionale utilizzando LTSpice Iniziamo subito Proviamo a simulare il funzionamento di un buffer con un opto isolatore Quindi lanciamo LTSpice, creiamo un nuovo progetto, un nuovo schematics Aggiungiamo i componenti, quindi partiamo con l'operazionale, quindi faccio F2, si apre la finestra Qui non troviamo i classici, quindi l'LM641 non lo troviamo Abbiamo comunque una marea di operazionali, altrimenti degli operazionali di tipo generico Prendiamo per esempio l'OP07 che è un operazionale a alimentazione doppia, duale, di precisione Diamo ok e creiamo lo schema aggiungendo intanto questo E vogliamo creare un buffer, quindi per creare il buffer reale ci serve in teoria niente Chiuderemo semplicemente la retorazione tra l'uscita e il negativo con un filo Ma abbiamo visto che conviene mettere una resistenza Quindi facciamo F2, premo R Ok, controllo R per ruotarla, mettiamo qui sopra una resistenza E questo è quello che ci basterebbe Andiamo ad aggiungere le alimentazioni, quindi qua premiamo ancora F2 Faccio VV, ok, eccolo qua Diamo ok Ci servono ben tre generatori, quindi ne mettiamo due qui e uno all'ingresso Facciamo ESC Questi due che abbiamo messo qui servono per l'alimentazione e questo fornirà invece il segnale Andiamo già a dargli una tensione, quindi vado sopra, facciamo il tasto destro Mettiamo 12V, faccio invio Tasto destro sul secondo, quindi facciamo 12 anche qua Andiamo ad aggiungere anche le masse, quindi F4 E vado a mettere i simboli GND Ce ne servirà uno che è il centrale dell'alimentazione Uno da fornire al generatore di segnale E in teoria abbiamo terminato Aggiungiamo ora i fili, facciamo F3 Creiamo tutti i collegamenti L'ingresso del nostro segnale va sul più dell'operazionale La retrazione invece va dal negativo, passa nella resistenza e si porta sull'uscita Colleghiamo insieme i due generatori e il GND nella parte centrale Premiamo ESC Ora dovremo collegare anche l'alimentazione, possiamo farlo usando delle label Quindi tasto destro, faccio draft Net name Equivale a premere F4 Mi metto in questo campo e ne chiamo una V+, e faccio invio Vedete che ho questa label, ne metto una qui e l'altra qua sull'alimentazione del nostro chip Premo ESC F4 di nuovo Ora facciamo V- Faccio OK Mettiamo una label qui e una sul negativo dell'operazionale Ci manca solo da configurare il segnale Quindi facciamo ESC Tasto destro sul segnale Qui clicchiamo su Advanced Mettiamo come impostazione sinusoidale Lasciamo Offset a 0, quindi lasciamo vuoti i campi Come ampiezza mettiamo 1 Volt Mettiamo una frequenza di, per esempio, 1000 Hz Diamo OK Assegniamo un valore alla resistenza, quindi tasto destro Mettiamo 10k invio Dobbiamo dare ora la direttiva per la simulazione, quindi tasto destro Sotto draft Ho Spice Directive, che è anche tasto S Qui mettiamo .TRAN, quindi vogliamo un transitorio Della durata facciamo di 10 millisecondi Faccio OK Diamo OK un'altra volta Mettiamo qui la direttiva Siamo pronti per eseguire Clicco sull'omino che corre Sposto la finestra della simulazione Ora andiamo a mettere la sonda Ne mettiamo una all'ingresso All'uscita dovremo trovare esattamente la stessa cosa Infatti vedete che coincidono Potrebbe essere interessante vedere cosa accade Se per esempio mettiamo un condensatore e un carico Quindi possiamo provare aggiungendo veramente le parti Quindi clicco Chiudiamo la finestra di simulazione Vado sullo schema Faccio F2 Mettiamo un condensatore Quindi premo C Lo ruotiamo E lo colleghiamo all'uscita Aggiungiamo un carico Quindi facciamo F2 Premo R Andiamo OK Mettiamo qui la resistenza Facciamo ESC Facciamo F4 Per mettere un ground Do OK Lo colleghiamo qui sotto Con F3 Facciamo i collegamenti Quindi colleghiamo questo E la resistenza a ground Premo ESC Tasto destro sulla resistenza Mettiamo un valore di 10k come carico Manca da dare il valore al condensatore Quindi tasto destro sul condensatore Facciamo un UF Cioè un microfarad Spice lo interpreta la U come micro Ora possiamo lanciare la simulazione Quindi facciamo partire L'omino Mettiamoci all'ingresso Mettiamoci all'uscita E mettiamoci anche sul carico Per vedere Vedete che effettivamente Il segnale esce in modo corretto Bene Senza nessuna sorpresa Abbiamo ottenuto proprio quello che ci siamo Immaginati Quando abbiamo parlato dei buffer Quindi l'ingresso è esattamente uguale all'uscita Con LTSpice e i simulatori Potete sperimentare Quindi fate un po' di esperimenti Modificando i valori Vedendo quello che accade Bene Vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo domani Ciao